La sfida che la contemporaneità ci pone è una sfida legata a comprendere di più, ad essere più presenti nelle evoluzioni delle discussioni che il mondo ci pone di fronte. Di fronte a questa babele è necessario riconoscere che ci sono dei fari, dei punti di riferimento forti. E per un cattolico impegnato io ritengo, e la mia esperienza insegna, che non si possa prescindere dall'osservare con attenzione, dallo studiare e da perseguire gli obiettivi che la dottrina sociale ci ha offerto. Il Magistero della Chiesa Cattolica si è impegnata già dalla fine del 1800 a ricostruire un tessuto volto a comprendere di più le verità e la verità che ci viene incontro. Il cattolico dovrebbe ragionare su come trasformare il suo ruolo dall'essere solo aggettivo in sostantivo, per cui non accompagnare le cose così, alla distanza, ma vigilare sulla realtà che si evolve impegnandosi in prima persona e testimoniando sempre più l'esigenza di una conversione costante che attraversa tutte le cose economiche e le cose sociali della nostra realtà. I giovani in questo ambito, in questa fase, hanno da essere di più e le responsabilità di coloro che con maggiore esperienza prima di loro se ne sono occupate sono crescenti. Questo convegno oggi chiama a tale impegno.